Ciao a tutti e bentornati nel canale di Alice! Oggi torniamo con un altro video a tema Lo Surprise! Abbiamo un Present Surprise, un Mix & Match Hair e un Hangout Space, giusto? Apriamo! Allora, si apre da sotto, togliamo lo scotch Ok, e iniziamo a svuotare il sacchettino Allora, abbiamo questi qui che sono di cartoncino Wow! Che è? Chips E ecco qui Allora, vediamo Questo è il booklet Tu apri intanto, va, vediamo che LOL c'è capitata Eccolo qui Wow! C'è capitata Lei! Non si chiama lei Eh, dobbiamo vedere come si chiama, certo Ma adesso io apro qualcosa Eccola qui Avevo qualcosa Non ci vieni Eccola Ora Una cucchia Abbiamo trovato anche un posterino Vediamo Ho trovato un cosa Ha trovato le cucchie Io non so che cosa fai 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 Oh yeah! Allora Vediamo come cambia colore questa LOL E prima di cambiare il colore Abbiamo trovato anche Il vestitino Il suo biberon E i due amici che non volano Dentro c'è una pallina C'è una pallina Mamma Mamma guarda che mi canta bene lei Come ogni cosa che è Un pc Guarda 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 Questo qui è il messaggio in codice E le sue scarpette Guardate Ora Non è solo un uomo Per il magico Un'acqua Che viva Nel suo Non lo saprà mai più Ok Allora Prendiamo L'acqua Prendiamo Ma che fai Ma che fai Ma che fai Che sia più che è questa cosa Vabbè Io ho fatto la valida Prendiamo Un bicchiere d'acqua E la immergiamo Guarda Quanto sono Bella Siamo preparate Eh Eh sì ma quelli non li mettiamo nel Adesso prendiamo un po' l'acqua Con dei bambetti E immergiamo la lol Facci vedere com'è fatta questa lol Adesso è fatta così Poi mettiamo la lol Mamma mia la puoi dare per favore La voglio zuppare io Zuppare La vuoi annegare? Vai Togli il barattolo Allora visto che non cambia colore Proviamo a prendere l'acqua calda Così magari Lei si fa un bagnetto Lei si fa un bagnetto Vediamo un attimo La ripassiamo nell'acqua fredda E il nulla cosmico Lei è freddissimo Non ce la faccio Vediamo Pronti? Nulla Nulla Non fa Non è che fa la pipì questa? Niente No la pipì Ma se non si preme? Niente Niente ma gli piace proprio Vediamo L'acqua c'è dentro Fa la pipì Fa la pipì Abbiamo capito Aveva ragione papà Aveva ragione papà Allora Intanto che io sistemo Tu mettiti il vestitino Io tolgo queste istruzioni Apriamo la palla va Aspetta Se mi mette il vestitino Ok Dai Vai con la Dov'è la palla? Eccola qui Allora Cosa si apre? C'è la germiera Questa si apre Dalla germiera Oh Ce l'abbiamo fatta Allora Vediamo Che c'è Che c'è qua dentro Che si va a svitare? Io voglio aprire prima la lol Ok Prima la lol Allora Qui andrà appoggiata la lol E qui ci sono Gli accessori No Apriamo prima questi No Io apri prima la lol Vi fa vedere che c'è? Ci sono capelli I capelli per Alice Mamma io metto Ah ci sono dei capelli No Oh Che carina Carina Tutta 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 pelata Tutta peppellatina Ah perché questi si tolgono È vero Vedi si tolgono E lì si attacca il ciuffo E si mettono quegli altri Che stanno nella scatola davanti a te Sì no Volevo vedere se c'erano Ce la fai Ali? Eh ma com'è carina No i vestiti Ci sono i vestiti Eccolo qui Io li apro Li apro i trucchi Li apro i trucchi Ci dovrebbero essere altri Eh 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 Ci sono anche quelli sciolti Oddio come sono i visci Li mangiarei Sì Allora Mi aiuti a questa macchina Poi quindi abbiamo trovato Quattro tipi di capelli diversi Wow Sì Cinque tipi Perché questi però sono in plastica Sono molto morbidi Poi Iaia Poi Un altro Ma io voglio provare Che? Mettere i capelli Allora Facciamo Questi sono altri capelli Intanto io voglio vedere Anche questa che cosa fa Una Un biberon A scatolina Questa volta Non c'è niente dentro E abbiamo trovato Voi la riconoscete? Abbiamo trovato Forse Lei Mi vuole? Confermi Pinut Butta Allora Apriamo Le ultime L'ultima Bustina Che ha Gli occhiali Gli occhiali Però A differenza di Tutti quelli che abbiamo Sono bucati Non hanno le lenti Non hanno le lenti Allora Vediamo questa Lolla Che fa Allora È fatto già Che cambia comunque I capelli Che gli puoi fare Tantissime Acconciature Diverse Però secondo me Questa Con il fatto dei capelli Di Di paglia Tipo di paglia Non si può Immergere Ma nelle istruzioni C'è scritto Dell'acqua calda Dell'acqua fredda Sì C'è scritto Di non immergerla Con Con i capelli C'è questa cosa Dell'acqua fredda E dell'acqua calda Ma come È scritto Anche Nelle altre istruzioni Non è detto Che la bambola Cambia il colore Diciamo che L'altro Siamo stati Molto più fortunati Sì Eccola qua Gli ha messo Il turbano Allora Mettiamo Le scarpe Aspetta Mettiamo Le scarpe Mi fai vedere Come si incastra Si incastra Nella pallina Però poi Vuoi mettere I capelli Noi io I capelli E li mettiamo Qua Va bene Tanti facciamogli Vedere L'unica strada Facciamogli Vedere Eccola La nostra Pelatina Pelatina Possiamo chiamare Che dici Noi possiamo chiamare Pelatina Vero Che facciamo Apriamo l'ultimo Così bisogna stare Attenzione Bisogna fare attenzione Anche perché sono tutti Laccati Tipo laccati Allora Mettiamo tutto qui Così poi dopo Facciamo vedere Quando è tutto fatto Quando è tutto Montato Così apriamo L'ultimo Aperta Dammi le forze Un po' di tagliare Sì Un po' di tagliare Potevi fare così Va bene Vai Taglia qua Allora Qui addirittura C'è una palla Ci dovrebbe essere Ci dovrebbero essere Anche tutto Tutti gli accessori Per fare le stanze Delle LOL Quindi i mobili Mettiamo E' vero? Sì Vediamo Apriamo Io Non c'è Non c'è soddisfazione Così rompi la scatola E la voglio rompere Allora E cos'è? Questa diventa Una camera Una stanza Mamma apro? Apri intanto? Mamma Aspetta Vedi che diventa Una stanza Oh Altro bocchino Sì finalmente Mamma Posso aprirla? Ho detto che questa Ci avrebbe dato Tante soddisfazioni Mamma E se tu l'apro? Apro il canto Mamma Questa adesso va bene Ovviamente ha tutte le pieghe Quindi La costruiamo dopo Facciamo così Allora Vediamo intanto Gli accessori Io voglio aprire Allora Qui intanto Servono sicuramente Delle batterie No Guardate Qua Ah no Vedete È una luce Le batterie sono già incluse Si vede? Sì 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 Una luce Che poi sistemeremo Ah forse va qui Ecco qui Quindi La piantana Che ho messo al contrario Eccola qui Guarda Un latte Poi la sistemeremo Nelle Nella stanza Guarda Un cassetto Il biberon Io voglio aprire I mobili Questi sono tutti I cassetti Dimmi se si vede No Un altro LOL Carino Un altro LOL No Ciao Poi abbiamo I mancabili occhiali da sole Ma questa volta con le lenti Un lettone Poi Un letto Un tipo di vellutino Le scarpe Le scarpe Eccole qui Vediamo qui Il cuscino Tutto morbidoso L'avevo detto L'avevo detto Che questo Sarebbe stato soddisfacente Ovviamente L'abitino Della LOL E Attenzione Attenzione Una corona Una piccola Bambolina No È una LOL Piccola Sì Una piccola LOL Facciamo così Ecco Rolla tutto Ora Che tanto Domme lei Questa è tutta Molto bella Tutta glitterata Mamma Chissà Se Facciamo la prova Dell'acqua Tanto Ormai L'abbiamo provata Tutte Allora Qui c'è Che masso Qualcos'altro Acqua calda Acqua fredda Proviamo Non la immergo tutta Perché ha tutti i glitter Fatto Immersa Immersa Vai Cambia Cambia No Mi sa che Vi è venuta Una cintura Allora Secondo me Queste Essendo delle LOL Comunque particolari Hanno degli accessori Hanno degli accessori Mamma Senti Tutte È lucida Vabbè Sicuramente farà O la pipì O O l'acqua O spruzzerà l'acqua Dagli occhi no Perché non sono bucati Quindi già lo sappiamo Mamma Lei vuole dormire Vuole dormire Quindi prendiamo Gli letto Allora Vediamo se abbiamo tolto Tutto dalle bustine Mamma C'è una palla Adesso Una palla Sì Prepariamo la casetta Manca solo La bambolina Che abbia O Abbiamo sistemato Tutta la stanza Dell'ultima LOL Eccola qui Abbiamo messo Gli altri LOL A farle compagnia Eh sì Giusto? Come abbiamo potuto vedere Nessuna cambiava colore Neanche l'ultima LOL È vero L'ultima Spruzzava l'acqua Dalla bocca No Non faccia la pipì No Spruzzava l'acqua Dalla bocca Le altre mi sa Facevano la flin flin No No Ancora non la fanno Meno male Allora Noi Dal mondo LOL Surprise Vi salutiamo E ci vediamo Pronto Ciao Ciao Iscrivetevi al canale Lasciatevi Tanti LOL 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 L'escrivetevi al canale L'escrivetevi al canale L'escrivetevi al canale